Siamo arrivati allo scontro finale Purtroppo partiranno i giorni Ma è meglio far partire quelli più esperti I veterani Dove andiamo? Il consiglio che do io Adesso a Londra A Londra E vabbè io vado E quando arrivo ti scrivo Siamo casa e chiesa Eh sì E viva il Magna Magna Non finirà? Bye E viva il Magna Magna Ciao Ciao Ciao